Campionato di promozione Gironeal, Renaccia di Pretola si gioca all'anticipo tra la squadra della Cassione Semacchi e Magliaverde, la Pietralunghese, subito colpo di testa all'ottavo minuto, vola Paribocci la cui imbattibilità ormai dura da oltre 700 minuti, azione ancora in fotocopia, la palla che spiove, stavolta nessuno della squadra ospite è pronto a girare. Al trentesimo azione della Cassione Semacchi sul calcio d'angolo, il colpo di testa di Oparà è parato facilmente da mischianti, buona costruzione Favaroni-Memai, il numero 7 porge proprio alla corrente Memai, il sinistro dopo un buon dribbling, anzi il destro è però altissimo sopra la traversa. Al quarantaduesimo si dimostra ancora che oggi evidentemente la mira del talentuoso numero 10 non è quella delle migliori giornate e la palla si alza, sopra la trasversale finisce dunque 0-0 il primo tempo. Andiamo alla ripresa decisamente con più azioni da rimarcare nel tabellino, subito al secondo minuto occasionissima per la Cassione Semacchi, l'errore abbastanza pacchiano di un difensore in aria, poi Fratini è decisamente troppo lento sia nel controllo che nella conclusione. Al terzo minuto Favaroni viaggia lungo un'autostrada, arriva al limite dell'aria, la conclusione palo e portiere e quell'opportunità per la Cassione Semacchi sfuma. All'undicesimo calcio d'angolo di Memai, palla in mezzo, colpo di testa che però non inquadra lo specchio. Quindicesimo ancora pericolosi i padroni di casa ma il gol non arriva dopo una tambureggiante azione da destra verso sinistra, nessuno però ha la prontezza di intercettare la sfera nella maniera giusta per mettere in difficoltà mischianti. Ma al diciannovesimo finalmente la porta del portiere ospite è violata, calcio di punizione battuto da Mai Mai, il sinistro ottimo in area di rigore, sbuca la testolina di Favaroni, il bomber dunque mette il suo timbro su questa partita. La pietralunghese ci prova ma Branco manda alto e arriva al ventinovesimo la rete del 1 a 1, troppa libertà sia sul cross di Xiongò che sul colpo di testa. Comunque perfetto da parte di Martini che sigla l'1 a 1. Al trentatreesimo occasione sul destro di Stokic, i suoi sviluppi di un calcio piazzato ma è la palla, non inquadra lo specchio. Al quarantesimo tocca al neo entrato Martinelli lasciare partire, una bella botta al volo, tiro però impreciso. Al quarentaseiesimo è Andrea Gaggiotti che appoggia per la corrente Martini, finisce a terra in area di rigore, protesta il rosso blu ma l'arbitro lascia correre, non c'è più tempo dunque finisce 1 a 1. Allora innanzitutto devo dire che sostanzialmente è stata una bella partita, in particolare il secondo tempo è stato combattuto e forse il primo tempo le macchie, Castionese macchie, era un po' contratta, loro hanno avuto l'occasione per passare e hanno avuto quest'occasione che è stata parata da Paribocci. Il secondo tempo siamo entrati con uno spirito diverso, abbiamo avuto almeno 3-4 occasioni da gol, purtroppo non le abbiamo concretizzate. Comunque ecco è stata una bella partita e chiaramente ci aspettavamo un tipo di dinamica della stessa, la Pietralunghese è una bella squadra, ci ha dato del figlio da torcere e credo che alla fine il risultato possa anche considerarsi giusto. Devo dire che abbiamo fatto una buona partita, abbiamo fatto secondo me un buonissimo primo tempo, dove siamo riusciti a tenere palla a terra, a frasseggiare e abbiamo sviluppato anche qualche buona trama di gioco. Ovviamente davanti avevamo un'ottima squadra, una squadra fisica, una squadra che ha anche delle buonissime individualità, veniva da una serie di risultati importanti e una porta anche inviolata ormai da 6-7 domeniche, perciò siamo riusciti anche a sfattare questo loro momento ottimo. Poi niente, il secondo tempo invece abbiamo avuto difficoltà, soprattutto i primi 20 minuti ci siamo tirati troppo indietro, abbiamo dato campo al macchie e abbiamo sofferto, abbiamo sofferto, siamo stati troppo nella nostra metà campo e abbiamo concesso diverse palli inattive, su di cui una di queste sono riusciti a farci golle e da lì fortunatamente c'è stato un nostro risveglio. Siamo tornati fuori, abbiamo ricominciato a giocare, credo che abbiamo avuto anche la volontà e la voglia di portare a casa un risultato positivo e alla fine l'abbiamo trovato, credo anche meritatamente.